Groovy, Phoebe, non si gioca a palloni in un posto così state attenti o romperete qualcosa perché non lasciate perdere la palla e vi godete il museo? a voi piacciono i dinosauri Ops, non sembri normale, ti senti bene? bambini, voi avete capito che cos'ha? a 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 Ma adesso è ancora più arrabbiata. Prova ad accecarla con il flash. Bambini, secondo voi in cosa dovrebbe trasformarsi Groovy per spaventare la mummia? No, Groovy. In un dinosauro. Che cosa abbiamo imparato, bambini? Niente palloni nei musei. Che bella giornata per giocare in giardino. Cos'è, Phoebe? Una palla? Bambini, perché non contiamo quante volte riusciamo a colpirla senza che cada? Così ripassiamo i numeri. Pronti? Groovy, devi colpire la palla. Proviamo di nuovo. Mettetevi in cerchio. Pops, anche tu. Uno. Groovy, la palla deve arrivare fino a Phoebe. Colpiscila più forte. Uno. Due. L'hai lanciata molto in alto. Possiamo migliorare, bambini. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Phoebe, devi passare la palla ai tuoi amici. Bisogna condividere, così è più divertente. Molto bene. Dai, Groovy, prova ancora. Ops. Non così forte. La palla si è incastrata sul camino. Non importa, bambini. Pops può prenderla senza problemi. Pops, che succede? È così incastrata? Pops? Pops si è dimenticato della missione. Recuperare la palla. Cosa possiamo fare per prenderla? Una scala? No, Phoebe, i bambini non devono salire sul tetto. È molto pericoloso. Trovato. Perché non ci facciamo aiutare da Groovy? Groovy! In quale giocattolo può trasformarsi Groovy per recuperare la palla? In un elicottero? Un'auto? O in una nave? Esatto, bambini. Un elicottero può volare sul tetto. Alla riscossa! Molto bene, Groovy! Guarda, Phoebe, la palla! Grazie, Groovy, sei il migliore! Giochiamo ancora, in squadra. Mentre Phoebe colpisce la palla, Groovy ci aiuterà a contare fino a dieci. Pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Perfetto! Che bella giornata per imparare i nomi della frutta e della verdura! Vediamo cosa abbiamo qui. Frutta e verdura. Che buono! Sapete tutti i nomi? Comodoro, banana, melanzana, carota, patata, pesca, broccoli, lattuga, mela e asparagi. Bene! Bene, bambini! Sapete già come sono fatti un pomodoro, una pesca o una banana, ma sapete cosa sono frutta e verdura? Volete che vi spieghi la differenza? Ottimo! Pops, mi aiuti? Tutte e due, la frutta e la verdura, provengono dalle piante. A seconda della parte della pianta da cui provengono saranno frutta o verdura. Iniziamo con la frutta! Tutti i frutti prima sono stati dei bei fiori. I fiori non solo hanno un buon profumo, aiutano anche le piante a riprodursi. Per questo i frutti hanno i semi. Per questo i pomodori, le banane, le melanzane, le pesche e le mele sono frutti. Prima sono stati dei fiori. E le verdure, allora? Le verdure sono qualsiasi altra parte commestibile della pianta. Semi, tuberi, radici e bulbi stanno sottoterra e poi steli, fogli e fiori. Sottoterra ci sono verdure come le carote e le patate. Mangiamo anche steli come gli asparagi, foglie come la lattuga e fiori come i broccoli. Ci metterete un po' a imparare a distinguerli. Anche gli adulti a volte sbagliano! Volete giocare con la lavagna digitale per esercitarvi? Dovete mettere la frutta a sinistra e la verdura a destra. Pronti? Oh no! Dov'è la bacchetta? Non importa, bambini. Groovy può aiutarci. Wow! Grazie, Groovy! Pomodoro. Frutta o verdura? Ricordatevi che hai semi. Esatto, i pomodori sono frutti, anche se non sono dolci. Banana? Esatto, le banane sono frutta. E la melanzana? No, bambini. Prima sono stati dei fiori. Ah ah ah, giusto! Le melanzane sono frutti. E la carota? Sì, le carote sono radici commestibili. E cosa mi dite della patata? Esatto, le patate sono verdura. Sono tuberi. E la pesca? Facile, no? Giusto, le pesche sono frutti con dei semi molto grandi. E i broccoli? Verdura, giusto! Anche se è difficile da credere. I broccoli sono fiori. E la lattuga? Anche questa è facile. Sono foglie, perciò è verdura. E la mela? Frutta, ovvio! Hanno dei semi abbastanza grandi. E l'ultimo? Gli asparagi. Molto bene, Groovy! È una verdura perché si tratta di steli. Siete stati bravissimi! So che a volte può essere complicato, ma che sia frutta o verdura, ricordati di mangiarne tanta di entrambi. Che bella giornata per giocare nella sabbia! Ah, Groovy! Che carino quel granchio! Cos'è questo profumino? È sicuramente qualcosa di buono. Attento, Groovy! Aiii! Broccoli! Ecco cosa profumava così. No, Groovy! Aspetta finché siamo tutti a tavola! Perché non vai a chiamare Phoebe? Phoebe, è pronto! Sbrigati perché Groovy ha molta fame! Groovy deve aiutare Phoebe a uscire da sotto la sabbia. E mi sa che non basta! Non so se queste trasformazioni sono utili. Un attimo! Questa sì! Una palla è proprio quello che ci serve! Guardate come corre! Groovy ha proprio fame! Cosa c'è Phoebe? Non ti piacciono i broccoli? Sono davvero buoni i broccoli! Vero, Groovy? Groovy, quei broccoli sono di Phoebe! Phoebe, i broccoli sono molto salutari! Non li vuoi provare! Ti piaceranno di certo! Pops, mi aiuti a spiegarle perché è importante mangiare frutta e verdura? Mangiare frutta e verdura come i broccoli è molto importante per la nostra salute! La frutta e la verdura sono la nostra principale fonte nutritiva! Grazie a loro possiamo essere forti e crescere senza fermarci! Dobbiamo mangiare cinque porzioni di frutta o verdura al giorno! Groovy mangia più di cinque porzioni al giorno! E voi, bambini? Mangiate frutta e verdura tutti i giorni? Phoebe, non vuoi provare neanche un pochino di questi broccoli così buoni? Dai, devi solo dargli una possibilità! Provali! Ti piaceranno di sicuro! Vero, bambini? Oh, caspita! Phoebe non riesce più a pedalare perché ha fame! Ovvio! Prima non ha mangiato la verdura e ora non ha abbastanza forza! Wow, Groovy! Quei broccoli ti hanno dato una super forza! Non preoccuparti Phoebe, si può aggiustare! Però adesso come facciamo a tornare a casa? Trovato! Groovy può aiutarci! Groovy, ci aiuti? In che cosa deve trasformarsi Groovy per portare a casa Phoebe e il suo triciclo rotto in un mazzo di fiori? In uno spazzolone? O in una gru? Esatto, Groovy deve trasformarsi in una gru per tornare a casa! Molto bene, bambini! Wow, con questa super gru arriveremo subito a casa! Groovy, oggi è il tuo giorno fortunato! Anche a cena c'è la verdura! Mi spiace Phoebe! Dai, provale! Sono sicuramente buonissime! Papà cucina molto bene! Vedi che avevo ragione! Le verdure sono buonissime! Non ci posso credere! Phoebe! Sono piaciute così tanto a Phoebe che si è mangiata anche il piatto di Groovy! Tranquillo, Groovy! Ce ne sono ancora! Potete mangiare tutte le verdure che volete! Che ottima cena! Con tutte queste verdure avete abbastanza energie per giocare senza fermarvi! Che bella giornata per costruire un castello di sabbia! Che bella farfalla! È rossa! Attento, Groovy! Oh, Groovy! Hai schiacciato il castello di Phoebe! Era così bello! Phoebe, non arrabbiarti! È stato un incidente! Perché non facciamo un super castello? Ancora più bello e molto più grande! Pops, mi aiuti con il progetto? Guardate! Questo è il castello che dobbiamo costruire! Bello, vero? Anche se sembra grande, ma è composto da tre figure molto semplici! La base è un rettangolo! Ha quattro lati! Due più corti e due più lunghi! Le torri sono quadrati! Con quattro lati della stessa lunghezza! E i tetti sono triangoli! Che hanno solo tre lati! Groovy! Phoebe! Volete provare a fare questo castello? Dai! Secondo il progetto di Pops, la prima cosa da costruire è un grande rettangolo! Quale di queste forme è un rettangolo? Bambini, potete aiutare Phoebe e Groovy? Molto bene, bambini! Quello è un rettangolo! Anche il vostro camion giocattolo dei pompieri ha una forma rettangolare! Secondo Pops, adesso ci servono dei quadrati! Quale di queste forme ha un quadrato? Bambini, ci aiutate? Molto bene, bambini! Quello è un quadrato! Anche i dadi sono quadrati! Adesso è facile! Rimane solo una forma! Quella al triangolo! I triangoli sono come gli strumenti musicali! Anche quelli si chiamano triangoli! È facile da ricordarsi il nome, no? Bene! Abbiamo finito il super castello! Groovy, per favore! Smetti di suonare! Farai piovere! Oh-oh! Da un momento all'altro pioverà e il castello si rovinerà! Dobbiamo fare qualcosa! Trovato! Groovy può aiutarci! In cosa può trasformarsi Groovy per salvare il castello? In un salvadanaio? Un cartello di stop? O in una tenda? Esatto! Groovy deve trasformarsi in una tenda per salvare il castello! Bravo, Groovy! Hai salvato il castello! E anche Phoebe e Pops, che non si sono bagnati neanche un po'! Addio, nuvole! Adesso sì che si stanno bagnando! Groovy! Bambini! Continuiamo a costruire castelli con le forme? Bene! Bambini! Ci aiutate a unire ogni giocattolo con la sua forma? Che forma ha questo camion? Un rettangolo! Bene! E questo dado? Un quadrato! Un quadrato! Bene! E questo triangolo? Questo è facile, vero? Lo strumento musicale che si chiama triangolo! No, Groovy, non un'altra volta, per favore! Che bella giornata per giocare a calcio in giardino! Groovy, prova a fare gol! Ah! Cosa succede, bambini? Devi prendere meglio la mira! Cosa succede, bambini? La palla è dall'altra parte della strada! No, bambini! Non potete correre così vicino alla strada! È molto pericoloso! Lo so, Phoebe! Dobbiamo prendere la palla, ma bisogna seguire alcune regole di sicurezza stradale per attraversare la strada! Pops, mi aiuti a spiegarle? Primo, dobbiamo cercare un attraversamento pedonale! Sono delle strisce dipinte per terra che segnano il percorso verso l'altro lato della strada! Si chiamano anche zebre perché sono bianche e nere! Secondo, aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni! Il semaforo è un segnale luminoso che indica chi deve passare per primo! Ce n'è uno per le auto e uno per i pedoni! Voi dovete guardare quello con i pupazzetti! Con il rosso bisogna fermarsi e con il verde si può passare! Perciò, quando è verde, possiamo attraversare! Terzo, guardare da entrambi i lati per vedere che non ci siano auto! E quarto, aspettare che le auto si fermino del tutto! Esatto! Pronti per attraversare e recuperare la palla? Seguiamo le regole di sicurezza stradale! Primo, cercare un attraversamento pedonale! Giusto! Aspetta, Grubi, non ancora! Secondo, dobbiamo aspettare che il semaforo diventi verde per i pedoni! La luce è diventata verde! Terzo passaggio, guardare da entrambi i lati che non arrivino auto! E come ultima cosa, aspettare che le auto si fermino del tutto! Ora possiamo attraversare! Prendiamo la palla! Missione compiuta! Abbiamo recuperato la palla! Torniamo a casa e continuiamo la partita! Dobbiamo attraversare di nuovo! Ricordatevi quello che abbiamo imparato! Cosa? Il semaforo si è rotto! Così non possiamo attraversare! Le auto si devono fermare! Cosa possiamo fare, bambini? Grubi, ci aiuti? In cosa può trasformarsi Grubi per fermare le auto così che possiamo attraversare? In un biberon? Un cartello rosso di stop? O in un ragno? Giusto! Grubi deve trasformarsi nel cartello rosso di stop! Ricordate, rosso vuol dire fermarsi! Se vedono il cartello rosso di stop, le auto saranno obbligate a fermarsi! Bisogna sempre guardare prima da entrambi i lati e non attraversare mai se arrivano delle auto! Molto bene! Continuiamo a giocare! Bambini, cosa dice Pops? Oh, è vero! Hanno lasciato la porta aperta! Molto bene, Grubi! Evitare situazioni pericolose è il consiglio migliore per la sicurezza stradale! Perfetto! What are you doing? Are you trying to say something? Oh, yes! Subscribe, kids! Grubi the Martian Official Channel Perfetto! Perfetto! Perfetto!